Politica estera contro il liberismo Cina e lavoro. 4 ottobre 2018 alle ore 4 circa. Pierluigi Ferrara, certo è liberismo accettare le imposizioni dell'Unione Europea, pienamente d'accordo. Ma è anche vero che un governo e quindi un paese da solo non riuscirebbe a contrastare veramente il liberismo e dovrebbe avere appoggi da paesi che non sono liberisti. Si apre a priori una scelta di politica estera sempre che, parlando dell'Italia, gli altri paesi con idea dominante liberista ce lo lasciano fare. Tipra si insegna anche se piccolo paese noi non siamo certo grandi. E a chi rivolgersi in questo contesto mondiale attuale? Purtroppo non vedo soluzioni che non siano una lotta interna all'Unione Europea, e ne è state fatte da antiliberisti in Italia e nel mondo, ma sempre come minoranza che poi si è estinta anche se finché ci saremo non si estinguerà l'idea. Con la Grecia la Russia postcomunista si è proposta senza turbare i delicati equilibri mondiali pur cercando di rafforzarsi con nuovi alleati, ma è Russia e nuovi futuri dirigenti politici potrebbero capovolgere il tutto. La Cina se ricordate si era impegnata a gestire controllando i porti greci e benché portatori di aiuti economici la stessa democrazia avrebbe potuto trasformare la Grecia nel Venezuela europeo. Venezuela a cui va la mia solidarietà ma come in altri paesi latini è accaduto la sempre e stessa democrazia ha cambiato i governi e le loro politiche. Essere la Cuba europea e subire imbarghi aspettando di coinvolgere i paesi europei in altalenante maniera America Latina? Unico paese che potrebbe aiutarci è comunque la Cina benché con i suoi paradossi, anche se molto evidenziati e ingrossati dall'Occidente rimane un punto fermo antiliberista a cui l'Occidente ricco ci sta assiduamente ricordando. Per le sue pretese mancanze di libertà un modello dove ritmi e salari di lavoro presunti vengono sempre più attuati nell'Occidente liberista come dimostrazione del modello, appunto, cinese, tale da ripensarci ed evitare coniugando il lavoro subordinato o comunque attivo e fisico ad insuccesso. Ma la Cina si basta da sola in questo contesto di degenerazione del lavoro. Può e vuole offrire solo solidarietà dove non ha crescita, più che economica, di lavoro.